Nimo da Brescia ha fotografato la musica italiana tra gli anni 60 e 70 ma aveva sempre una forte passione per l'arte e ha fotografato i più grandi maestri del tempo tra cui appunto Salvatore Dalì. Da Brescia poi è diventato anche un noto gallerista e quindi ha sviluppato la sua passione al massimo.